Posso installare un'antenna satellitare sul tetto condominiale dato che dal mio terrazzo non riesco a captare il segnale? Devo chiedere l'autorizzazione all'assemblea o basta una semplice comunicazione all'amministratore? Anche le antenne sono motivo di frequenti discussioni fra condomini. In mancanza di disposizione contraria del regolamento, il condomino può installare l'antenna sul proprio balcone, sul tetto o sull'astrico solare, sia questo condominiale o di proprietà esclusiva, anche in presenza di un'antenna centralizzata già esistente. Le dimensioni dell'impianto però non devono essere tali da impedire agli altri condomini di fare pari uso della parte comune di edificio sulla quale avviene l'installazione ed inoltre non deve essere alterato il decoro architettonico. Attenzione però perché alcuni comuni hanno deliberato la rimozione delle antenne paraboliche installate sui balconi a favore della centralizzazione degli impianti. Questo per evitare quella giungla di antenne che si vede sui balconi e sui tetti nelle periferie di molte città italiane. Infine io volevo ricordarvi che questo spazio dedicato al condominio è in onda anche su Radio Arancia dal lunedì al venerdì tra le 9 e le 10 del mattino. Se volete porgermi le vostre domande potete farlo anche attraverso il sito www.radiorancia.com nella sezione dedicata appunto al condominio.